Quanti sono i devoti di questo santuario, perché è un santuario inserito in una chiesa? Beh, i devoti sono milioni, perché sono i devoti della medaglia miracolosa. Questo strumento di grazia che il Signore ha voluto concedere all'uomo attraverso l'intervento della Beata Vergine Maria a Santa Caterina Laburè. E allora Sant'Andrea delle Fratte rappresenta la Rue de Bac italiana, il centro principale nazionale della devozione alla medaglia miracolosa. Da qui partono centinaia di medaglie al giorno. Qui, come Ratisbon, vengono a inginocchiarsi. E sono tante le conversioni, tant'è che Benedetto XV, per le tante conversioni che si registravano in questa chiesa, definì Sant'Andrea delle Fratte la Lourdes romana. E queste grazie sono anche concrete, visibili per tutti gli ex voto che sono esposti in questa cappella. Grazie a tutti.